bene e buonasera a tutte e tutti io intanto vi do il benvenuto al centro sociale bruno a nome della polisportiva clandestina di trento a nome del laboratorio sociale officina piedicastello di tutte le realtà che hanno contribuito a costruire questo questa iniziativa dopo subito dopo la mia introduzione passerò la parola gaia che ci spiegherà un po quelli che sono gli obiettivi quelle che sono le intenzioni che con il progetto idea al bersaglio diverse realtà cittadine del tessuto dell'associazionismo del tessuto anche legato a realtà di movimento comunque di questa di questa città scusate io parlo per la clandestina in realtà sono molto poco sportivo e quindi perché le motivazioni gli obiettivi di un progetto che stiamo facendo sull'area che vedete qua davanti l'area appunto ex bersaglio io ci tenevo però a iniziare con un off topic perché mi sembra mi sembra giusto segnalare una cosa gravissima che è successa due giorni fa è successa in una città universitaria come trento è successa in uno spazio che dovrebbe essere uno spazio libero uno spazio di cultura uno spazio di sapere uno spazio di studio bene abbiamo assistito immagini davvero brutte violente con la polizia che è entrata per sgomberare degli studenti appunto che stavano studiando si stavano appropriando di quello che in realtà dovrebbe essere concesso sia un aula studio credo che ci sia un limite tra barbarie e civiltà e credo che quello che sia che è successo a bologna comunque rappresenta profondamente il valico verso la barbarie per cui ci tenevo ecco in questa occasione a sollevare questa questione ovviamente dando tutta la solidarietà da parte della polisportiva clandestina da parte del centro sociale bruno che ospita questo quest'iniziativa bene veniamo veniamo al tema oggi abbiamo intanto un ricco parterre di ospiti che sono sono a nostra disposizione e sono sono venuti a trento con con l'obiettivo di confrontarci su un tema che è un tema che può sembrare arduo noi abbiamo chiamato abbiamo intitolato questa questa iniziativa sport e rigenerazione urbana tenendo dentro comunque due grandi temi che fanno parte di quello che come dire noi come movimenti sociali ma tante realtà dell'associazionismo culturale dell'associazione dell'associazionismo sportivo stanno portando avanti ossia il tema della città di come riuscire a trasformare le nostre città in luoghi reali di partecipazione è il tema dello sport popolare che comunque è un tema che non solamente in italia ma in tutto il globo sta rappresentando comunque come dire un'alternativa a quello sport invece che si sta sempre più dimensionando nella situazione della di uno sport misurato sui grandi eventi di uno sport misurato su sul grande business bene questi due temi come si conciliano e si conciliano a nostro avviso poi entreremo magari più nel dettaglio di quello che abbiamo fatto con con idea al bersaglio si conciliano nel momento in cui si mette a tema in maniera condivisa con con altre realtà che attraversano lo spazio urbano si mette a tema la questione della progettazione condivisa ossia di come far diventare uno strumento che è uno strumento che è sempre stato uno strumento in mano alla governance per trasformare i nostri territori per per trasformare le nostre città farlo diventare uno strumento appunto della collettività quindi la dimensione collettiva nella progettazione è un elemento da mettere a tema a me piace utilizzare anche in maniera un po provocatoria un'espressione di di renzo piano renzo piano che tutti quanti conosciamo l'abbiamo visto all'opera anche a trento con con il quartiere con il quartiere le albere ma non solo insomma renzo piano aveva utilizzato un po un'espressione che andava un po oltre l'idea di rigenerazione che era ieri ne stavamo parlando con alcuni con alcuni compagni di padova bevendo bevendo uno spritz era la rammendazione cioè cercare di tenere comunque dentro l'elemento del legame sociale nel momento in cui noi parliamo di pratiche rigenerative perché la rigenerazione di per sé può rischia in questo momento di diventare uno di quei temi mainstream che però poi perdono di significato nel momento in cui vengono utilizzati anche e praticati soprattutto a sproposito perché il grande tema della riqualificazione della riqualificazione degli spazi urbani abbandonati se lasciato solamente in mano alla governance rischia di diventare l'ennesimo elemento che favorisce comunque speculazione di rizze che favorisce comunque la rendita urbana favorisce tutti quegli elementi che come dire fanno parte di quel tessuto di progettazione dall'alto a noi invece quello che ci interessa è valorizzare la progettazione dal basso ma non in termini di slogan in termini di pratiche in termini di esperienze in termini di progetti in termini di confronto qua oggi si confrontano più esperienze esperienze anche che vengono da bacini culturali diversi perché noi comunque oggi abbiamo attivisti che lavorano sul tema dello sport sul tema dello sport e l'immigrazione abbiamo andrea che un giornalista di tutto sport abbiamo angelo che è un ricercatore di archeologia industriale per cui è importante provare a trovare un elemento di confronto che davvero riesca a mettere a tema la questione della progettazione della città e dei nostri territori come elemento di nuova costruzione di democrazia perché è questo poi quello che ci interessa a volte la democrazia rischia diventare un concetto vuoto nel momento in cui la si lascia semplicemente nelle mani della retorica invece la democrazia è un concetto appunto che diventa vero nel momento in cui lo costruiamo realmente insieme nel momento in cui davvero le decisioni diventano decisioni comuni per questo progettazione condivisa per questo progettazione comune per noi è assolutamente intrecciato col tema delle rigenerazioni col tema della riqualificazione di spazi abbandonati col tema in generale delle riqualificazioni urbane perché lo sport beh lo sport perché come dicevo all'inizio in questo momento si sta creando nei nostri tessuti urbani nel tessuto associazionistico che a volte anche lontano no da dai dai movimenti dai movimenti sociali che hanno iniziato le prime esperienze di sport popolare appunto si sta creando un'idea di sport che è assolutamente alternativa a quella dello sport business ebbene con queste realtà queste realtà direttamente comunque si stanno occupando di esperienze di regenerazione urbana parleremo del caso di padova parleremo del caso di roma esperienze comunque che ancora non sono profondamente conosciute ma sono esperienze che a mio avviso fanno entrare in moto un altro elemento che è l'elemento della riappropriazione dal basso degli spazi non è un caso che noi stiamo facendo questo convegno dentro un centro sociale dentro un luogo e comunque nasce da un percorso di riappropriazione legittima di spazi di riuso di rivitalizzazione ebbene anche lo sport in questo momento sta diventando un elemento trainante di questo tipo di cultura che nelle nostre città è bene che ci sia ed è bene che appunto venga venga ribadita venga venga valorizzata da tutti bene io sono stato forse un po un po troppo lungo ma ci tenevo un po a a sottolineare quelli che sono gli obiettivi della giornata di oggi e soprattutto a dare alcuni spunti alcuni elementi di confronto proprio perché oggi è anche una sperimentazione no la messa a tema di questi di questi due grandi temi scusate la ripetizione quindi sport e rigenerazione urbana viene vista come dicevo da tanti punti di vista quindi cogliamo anche questa giornata come un'occasione di spunto come un'occasione di spunto per provare a ragionare insieme su alcuni su alcuni elementi magari e provare anche a costruire dei tessuti relazionali tra di noi che ci diano realmente il segno di il segno e il senso di queste iniziative io lascerei la parola gaia e le lascerei anche il posto così così ci spiega un po diciamo idea al bersaglio un po nella nella sua nella sua complessità cosa io non sarei ma minimamente in grado di fare grazie grazie antonio io invece sarò brevissimo